Per me è davvero un onore partecipare a questo evento, soprattutto in un giorno particolare, che è quello del 31 ottobre, nel sabba più importante e sacro dell'anno. I proprietari della villa hanno scelto i miei libri e quindi di iniziare una serie di eventi con la mia presentazione, con una presentazione per la prima volta duplice, perché parleremo di entrambi i libri in quanto la storia è unica, proprio perché nell'ultimo libro, Cuncuma, racconto della villa, racconto di una donna uccisa all'interno di questa villa e di un percorso spirituale che farà in un mondo, chiamiamolo dei morti, di morti a metà, fino a rinascere la nuova vita. È un evento particolare, diverso da una presentazione classica, con me ci sarà la giornalista Antonella Folgheretti, ci sarà il professore d'arte Giovanni Melazzo e poi le letture saranno a carico di Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. Uno dei discorsi che abbiamo fatto con la proprietà è proprio quello di dare una visibilità diversa a questa villa, perché per tanto tempo si è chiacchierato su tutti gli eventi che sono accaduti, almeno si pensa siano accaduti all'interno di questa villa, quando in realtà non è così e i due argomenti si sposano, perché anche nella mia storia è vero che si parla di una donna uccisa al suo interno, però è anche vero che poi il messaggio finale è quello di una donna che rinascerà a nuova vita, quindi di una donna libera, finalmente appunto di una villa che ha un sapore diverso rispetto a quello che tutti noi palermitani conosciamo.